Torna l'appuntamento con Buongiorno Ceramica, la manifestazione che si svolge a livello nazionale promossa dall'Associazione Città della Ceramica, di cui Sciacca fa parte. In Piazza Angelo Scandaliato sabato e domenica si svolgeranno lezioni e mostre, momenti di approfondimento dell'arte della ceramica, ma anche degustazioni, concerti, animazione e intrattenimento per i bambini. La festa della ceramica Sciacca si aprirà sabato alle ore 16.30 con un workshop per la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la città tunisina di Nabella. È una città in cui c'è una eccellenza legata alla ceramica, peraltro portata avanti da una maestria femminile, anche questo è particolarmente importante, anche come messaggio dal punto di vista sociale. Si devono anche avere questi momenti di incontro, di confronto, questi protocolli con realtà internazionali, perché ci possono consentire soltanto di crescere. I protagonisti saranno ovviamente i maestri ceramisti e significativo sarà il momento in ricordo del giovane artista saccenza Antonio Soldano, scomparso lo scorso anno. Al di là del cielo è il titolo della mostra a lui dedicata. Il padre Alberto, noto ceramista saccenza, ha realizzato il trofeo che a conclusione della manifestazione sarà consegnato ad un ente che opera in città. Ognuno di noi svilupperà qualche cosa ricordando di questo titolo. Tra l'altro lei preparerà appunto quello che sarà poi il trofeo che verrà consegnato alla fine della manifestazione? Io ho preparato un trofeo ricordando il monto del lavoro di mio figlio, poi lo spiegheremo dopo, sarà una sorpresa, poi sopra il pennello con le ala, lo ricordiamo dopo. Questo trofeo lo doneremo a un ente che si è distinto durante l'anno. Anche il collega Pippo Presti ha voluto ricordare Antonio Soldano realizzando un piatto sul quale sono riportati diversi che sarà consegnato alla famiglia. Io sono stato colpito subito dall'espressione dell'amico maestro ceramista Alberto, cui noi vantiamo già parecchio tempo di conoscenza della famiglia. e quindi ho capito quando lui ha detto posso dire io il tema, se poi viene accetto va bene, se no... e allora ho capito subito che lui è rimasto vivo ancora il ricordo del figlio. Io già da tempo scrivo versi su ceramica, per cui ho pensato che nessuno può scrivere dei versi in occasione sulla ceramica. La festa della ceramica vedrà protagonisti ovviamente anche studenti e docenti dell'Iceo Artistico Bonachia. La partecipazione della scuola è quasi un evento naturale, ecco, perché permette ai ragazzi che quotidianamente lavorano e si impegnano per acquisire competenze nella lavorazione della ceramica di rendere noto il loro percorso anche alla cittadinanza. La nostra strumentazione, i nostri ragazzi e i nostri professori saranno presenti proprio per lavorare in piazza Scandaliato e per far conoscere quelli che sono i vari processi lavorativi della ceramica a tutti coloro che, sacensi e anche turisti, ne avranno voglia di sapere qualcosa in più. Non solo la ceramica, in collaborazione con il presidio locale di Slow Food ci saranno anche momenti di degustazione della fragolina di Sciacca, un'eccellenza del territorio, così come l'olio. E in questo caso i protagonisti saranno gli studenti dell'alberghiero Molinari. Sono due giorni particolarmente importanti per la città di Sciacca e in questi due giorni saranno messe in evidenza quelle che sono la valorizzazione dei prodotti tipici della nostra città. In questa occasione parleremo della fragolina di Sciacca e dell'olio Evo. E naturalmente a noi tocca il compito proprio di valorizzare questi prodotti e di fare in modo di farli apprezzare ai nostri concittadini ma anche ai turisti che eventualmente verranno a visitare la nostra città in questo fine settimana. Sciacca, città della ceramica. Come è stato rimarcato anche in occasione del Giro d'Italia, quello che manca è il Museo della Ceramica. Buongiorno Ceramica è sì promozione della ceramica di un settore importante della nostra città ma è promozione turistica della città perché la comunicazione che viene eseguita dall'Associazione Nazionale Città della Ceramica è una comunicazione importante che vede appunto la nostra città presente. Sul Museo della Ceramica, proprio nei giorni scorsi si è parlato nuovamente al nostro interno, il sindaco ha avuto delle interlocuzioni proprio per riprendere un attimino quello che è la realizzazione. Voglio ricordare che c'è una legge che istituisce il Museo della Ceramica di Sciacca che è del 91 e un problema solo di location è trovare una sede idonea e su questo stiamo lavorando. Quale potrebbe essere questa sede, magari dentro il centro storico? Esprimo una mia opinione personale, quale migliore sede può essere quella del complesso Santa Margherita?